Allora, lei ha avuto un'infanzia poverissima, addirittura è nata in una stalla perché nella sua casa non c'erano i vetri addirittura e sua mamma è rimasta vedova prestissimo e infatti quando le chiedono qual è stato il suo primo ricordo lei dice mio papà nella bara e poi il secondo le racconta è stata mia madre che non mi capiva, che mi schiaffeggiava eccetera la sua è stata un'infanzia prevalentemente infelice? No perché ho pensato, tu nasci in un posto che non hai scelto tu, devi resistere in quel posto fino a quando tu avrai la possibilità di volare quindi devi resistere perché non hai scelto tu dove nascere, nel momento che però tu puoi volare puoi decidere della tua vita No, no, questo è molto giusto però magari da bambini uno non ha questa lucidità e questa capacità di analisi Io ce l'avevo, lucidità assoluta perché non mi sono mai lamentata perché non c'era da mangiare o non avevo le bambole Qual è la privazione che l'ha fatta più soffrire? Ah, il fatto di non poter scegliere, nel senso che mia madre, non so c'era il mercato, quelli dove costa tutto poco diceva, comprava due cose per tutto l'anno, ma dico ma perché non me lo chiedi quale voglio visto che costa uguale? Era questo che non capivo, perché se tu puoi fare così poco per fare felice una persona, non lo fai Una volta ha detto, quando guardo indietro riaffiorano i fantasmi del passato, quali fantasmi? Beh, tutti abbiamo, diciamo che ci sono in tutte le persone dei percorsi dolorosi E secondo me il dolore bisogna disperderlo, vorrei aggiungere come lacrime sotto la pioggia Cioè noi sappiamo che il dolore c'è, ma è come dire, lo sto cercando, non lo trovo oggi So che lo troverò magari domani di nuovo e ritorna Lei ha raccontato nella sua autobiografia di essere stata molestata dal compagno, dall'ora di sua madre quando aveva circa 14 anni e che non gliel'aveva detto Molestata, grazie a Dio, è stato un momento diciamo intenso perché lei era fidanzata con quest'uomo, un uomo diciamo anche piacente E io crescevo, ovviamente no, avrò avuto 15, 15 forse 16 E niente, nel girare nel letto vicino E lui mi ha buttato e mi ha messo le mani, ero ferma E ho detto, oddio, cosa succederà? E è stato un attimo che è durato un mille anni Poi mi ha lasciato e non è successo niente È una molestia però Sì, non lo so, io ho detto, non mi ha fatto niente, non l'ho detto mai nessuno Perché chiaramente mia madre mi avrebbe incolpato se glielo avessi detto, sicuramente Mi avrebbe detto, hai fatto qualcosa di sbagliato, cose che no Però se lei lo racconta così tanto da non dirlo a sua madre No, io non dicevo niente a mia madre, non avrebbe capito mai nulla Anche lei non mi aveva mai detto niente Non mi aveva neanche detto che a un certo punto ti esce il sangue, quelle robe lì Io non sapevo, pensavo che stavo morendo Lei racconta che la sua prima volta è avvenuta con un uomo conosciuto Un signore che passava in macchina, con una macchina di lusso L'ha invitata ad entrare, siete andate altrove Ed è successo anche la seconda volta, è avvenuta con uno sconosciuto Le prime due volte Le prime due volte Le posso chiedere perché così, piuttosto che con un suo coetaneo, in un contesto più romantico Perché volevo solo sapere tecnicamente cos'è questa cosa, basta Non mi interessava nient'altro No, ho detto, vabbè, magari questo qui mi sembrava un po' più in là con gli anni Avrà avuto trenta, non lo so Magari sa come si fa, questo signore è un bel uomo, mai più visto E ho pensato di aver fatto il mio lavoro di scoprire Comunque lei, diciamo, vive di vari esperienti fino a che non si presenta l'opportunità della televisione Grazie a Renzo Arbore con tagli, ritagli e frattagli In cui faceva una sexy, diciamo, archivista con la testa tra le nuvole E a quel punto, diciamo, lei finalmente diventa famosa Era il mio obiettivo Ah Certo, io volevo, volevo, era la rivincita di tutta la mia vita Era come, sai, la persona che nessuno ha mai visto, ha mai guardato Nascosta, buia, vissuta nel buio, che finalmente trovava la luce Che cosa l'attraeva del successo? Il fatto di poter, speravo di poter guadagnare abbastanza per essere indipendente Di magari avere la mia casa, così nessuno mi poteva cacciare E Santa, lei ritiene di aver avuto successo o notorietà? Io penso di aver avuto tutte e due In cosa? Lei era veramente brava, ha avuto successo o perché? Qual era il suo talento principale? Allora, credo che il mio talento sia stata l'improvvisazione La capacità di parlare Ci sono persone, le metto in diretta, gli da un microfono, si bloccano Non riescono più, devono dire cose sentite di Non hanno dentro un fuoco che arde personale Comunque, dopo Arbore, le arriva tutto il resto? Ah sì, Arbore, certo, è stato fondamentale L'ha un po' scoperta, poi Panorama le ha fatto una copertina Lei è molto bella, nuda sul letto Poi è arrivato Playboy, poi Drive-In dove faceva la bigliettaia Poi arriva anche il cinema, già aveva fatto piccole parti Ma il cinema poi arriva con Nando Cicero, con Viva la foca In realtà ho fatto tanti film Vabbè, però questo è stato significativo Che era vietato ai minori, poi è stato sequestrato No, per niente Sì, sotto i 18 anni Assolutamente no, questo film non era neanche vietato ai 14 Era, guardi, mi sa di sì che era vietato Comunque è stato sequestrato Non è stato sequestrato per niente Perché non c'erano neanche scene di nudo particolare Era un film di barzellette, c'erano notizie sbagliate Forse volevano creare questo Allora, vabbè, per i pochi che non l'hanno visto È un film dei carabinieri, di barzellette Ci dice la trama di Viva la foca? Allora, c'è una ragazza che vince una foca in un contest E se la porta a casa E ha le difficoltà di vivere in queste situazioni Fa foca Sì No, ma è una foca vera Se la ricorda così lei, diciamo Beh, mi ricordo perché l'ho vista la foca No, la foca forse c'era Ma la trama era un po' più No, guarda, era un film di barzellette Cosa hanno fatto? L'idea era di Ma lei è sicura che parla di Viva la foca? Certo, ma forse Magari uno non l'ha mai visto Ma se lo vede Vuol dire che ho ragione io Perché hanno messo insieme Tante barzellette che facevano ridere E hanno cercato cinematogrificamente di raccontarle Comunque lei era diventata un sex symbol a quel punto No? Le piaceva essere un sex symbol? È una cosa che nasce da piccoli dettagli del corpo Credo, non so, dalle spalle Era quello? Sì, penso di sì Dalla curva delle spalle Tu puoi essere sexy o no? Ah Sì Anche dal gomito Come hai il braccio Dal gomito? Eh sì, tutto è sexy Diventa sexy Davvero? No, non sto Dalla